ARIA ROYAL Questo è signori E finalmente siamo in compagnia di questo finocchio che è un aviatore con la spada da samurai Mettiti il cavolo di zaino subito da aviatore No! Dov'è lo zaino da aviatore? Ragazzi come vedete nello shop sono uscite le nuove skin contatore Cioè il zaino contatore e super sonico La skin che ha ben 4 stili diversi Che sono davvero fighissimi A me piacciono tantissimo il primo e l'ultimo Mi sembrano veramente fighissimi Poi abbiamo altre due mimetiche Nero stealth che vorrei star a shoppare E due all'aereo che mi piace già un po' meno Ma comunque secondo me è figo E il coach supporta un creatore Octi per free se voleste shoppare nello shop appunto Grazie mille a tutti coloro che lo fanno Veramente siete dei connessionati puri fighissimi Vediamo un po' quelle che sono tutte le ricompense insieme a Luke e dell'aviazione reale Abbiamo 7 giorni quindi una settimana e 2 ore per farle Completa tutte le 9 sfide per ottenere l'oggetto ricompensa E ci danno alias calabrone Come ti pare questa mimetica alias calabrone Insomma ragazzi basta farla per l'esperienza Tanto chi se ne frega delle mimetiche queste qui sono brutte Sono più belle qualità Beh dai insomma sono sempre gratis Guarda alias teschio mi piace Comunque ha quell'arancione che mi piace Alias falcone non mi piace per niente Perché tipo è uguale alla mimetica del legno Non so perché ma mi pare uguale E poi alias lupo Anche l'alias lupo mi piace perché è arancione Ma andiamo a vedere che è sta modalità Nuova coppia aviazione reale Sali a bordo di uno stormwing E prendi il volo in questa frenetica modalità In cui i giocatori lottano per essere l'ultimo ancora in volo Vabbè vediamo Vecchio perché non vedo i materiali Oddio neanche io vedo i materiali Questa storia Forse perché in questa modalità parte già in aereo Sì Nooo ma cosa? Vecchio questa è una modalità dove devi semplicemente distruggere gli altri Noi abbiamo tre aerei Tre aerei Ci sto robinari Spara 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 Ci sono robinari Dove cacchi? Davanti a noi Ma c'ho la k Il burst Eh vabbè Bisogna distruggere gli aerei altrui È una modalità tutta aerea Per questo non avevamo i materiali Vai spara 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 24 44 Ma possiamo cambiare Tipo Cambia posto Sì possiamo cambiarlo Volendo poi Vecchio Questa è la modalità dei miei sogni Prendi la cesta La cesta La cesta Vediamo cosa c'è Non so come funziona Neanche io Eh beh ci passi in mezzo e la prendi sicuramente È tipo un portale Vediamo Sì infatti Cos'è sta bomba? Che inutile Vecchio Sparo bombe Guarda gli ho fatto 200 di danno L'ho ucciso Qua Guarda c'è sdorata C'è sdorata Destra 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 C'è sdorata Vai Accelera Accelera come un dannato Accelera come un dannato Accelera come un dannato Non posso Non posso Vai 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 E prendi il medkit Oh mio dio L'uovo Ho trovato l'uovo fucile da caccia Vai 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 Posso sparare nuova strana No no Non prendo danno No No mi hanno congelato Guarda gli ho fatto avanti No La nostra partita Venisce qui Stop prima di proseguire col video Ti luo 30 secondi per la sponsor time Perché immagino che tu sia stufo Di giocare con una tastiera scadente Che ti fa venire voglia di scaventarla Da tutte le parti E immagino che tu abbia deciso Di comprarti una nuova tastiera da gaming Meccanica Super fighissima Allora la tastiera Blademaster Pro della Drevo E ciò che fa il caso tuo La tastiera più votata Nell'intera storia di Kickmaster Con un layout Completamente in italiano Che uso io stesso Per fare vittorie Con 15 kill su Fortnite La particolarità della tastiera È appunto il genus knob Situato alla sinistra Della stessa A cui puoi assegnare Ogni comando Che ti venga in testa Da quando l'ho provato Non potevo più farne a meno La scocca È completamente in metallo E gli switch Sono di tutti i colori Completamente Cherry MX originali Addirittura i led Sono luminosissimi E bellissimi Nella fighissima scatola Troviamo la tastiera Le istruzioni E un dispositivo Per collegare la tastiera Via bluetooth Perché sì Questa tastiera È bluetooth Un pennello Per scopare La tastiera Una pinzetta Per rimuovere i cake caps E una foto di otti Da piccolo Col culetto di fuori No Forse questa non c'era Nessun obbligo Ma se volete una tastiera Come la mia Andate in descrizione Che trovate il link Per la tastiera Con un codice sconto Del 20% Solo per gli iscritti Alla pura fibra italiana Sbrigatevi Prima che finiscano La minigun C'aveva questo Ma è devastante La minigun Ma questa modalità È fighissima però Ma è una È forse la mia modalità Preferita Insieme a The Flour is Love E me lo dici In ogni modalità No Stiando Eccolo qua Hai perso tutta la vita Del primo aereo Sono fino Oh c'è un medkit Vai 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 Però danno solo mille I medkit E vabbè Voglio dire Ok prendi anche l'altro medkit L'aereo vince Quando è dietro Quando è dietro Bisogna Bisogna assolutamente Ah ci vuole il pilota Provetto Cabra no No Ce l'hanno rubata No ma dai Ma che cavolo Inutile Ciao C'hanno i razzi grossi Io ho sparato al pilota Ha distrutto l'aereo Mi sa C'è sti viola Vecchio sali in alto No ce l'hanno rubato L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso La safe La safe Ma perde vita l'aereo Ma che cavolo Lì 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 Combattimenti Combattimenti Ok ok Stagli dietro Stagli dietro Rallenta 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 Oh oh Bravo bravo Vado a prendere il medkit Le ho uccisi Le ho uccisi Buono Oh yes Vai 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 In alto In alto Ok Non si può andare in alto Mi hanno ucciso Mi hanno ucciso Riesce a resistere Riesce a resistere Dai 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 Muori Pinocchio Non lo so Ma dai Ma questa cosa del congelamento Ma non è possibile Sparare a me va da dio Nel senso che riesco a fare tante di quelle kill Ho fatto 8 kill in sto game Ok ormai abbiamo proprio preso tutti i brevetti di volo Sappiamo che Luca è meglio guidare Io meglio sparare Ragazzi questa è la vittoria Che stavate aspettando Se a te ti diverte guidare Io sono contento Perché comunque io proprio riesco a sparare Con gli aerei Il segreto è scappare Cioè devi sparare da lontano alla gente Io puntavo solo ai piloti Ucciso il pilota L'aereo crolla E il tipo l'altro Dice ma che cazzo Ah si Ah si Allora vai Punta sempre ai piloti Infatti ma io ho sempre puntato ai piloti Ok allora cambio Come al solito Allora stai lontano da tutti gli aerei Rallenta 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 Spegni i motori Cabra Te lo ricordi il termine è cabrare Hai voglia Vai 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 Oh la la minigano Vecchio non c'è Oh Vai 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 Sì ma qui stiamo parlando di livelli di pilotaggio raga Buono buono Ho trovato un'altra arma buona Da vicino minigano a palla Guarda cosa sparo Sparo i cosi congelanti Cacchio Magari li avessimo No no ma non andare a fightare Perché fightare vuol dire perdere l'aereo E' meglio avere più aerei Bisogna giocare tattici Oh nemici 68 al pilota Ecco siamo in un posto Vai eh facciamo la tattica Oh la chest verde lì Allora ricordati se ti seguono da dietro Vai in alto Spegni i motori e giro a sinistra Oh è un poca vita Oh è un poca vita Oh è un poca vita Lo ha distrutto quasi Distrutto Vola 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 Devi volare occhio Stai lontano dai fight per favore Abbiamo Ora medic it's time Eh occhio eh perché c'è un altro aereo là Infatti Prenderemo qualche danno? Forse si Oh che ci sparano Un attimo Sali su Sali su Ok sto salendo Abbiamo due aerei dietro di noi che fightano Bene 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 A sinistra A sinistra Vai 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 Ah io sto usando la minigun con noi Andiamoci 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 No sono io che uso la minigun Uccisi Oh devi salire Devi salire C'è un aereo che ci sta seguendo Fermo Occhio 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 Ce la si fa Ce la si fa Luca Questa è nostra Abbiamo ancora tre aerei Abbiamo ancora tre aerei vecchio Vai 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 Occhio la segue La sei fa Beh qui è dura a volare Sappilo Eh immagino Grande Grande Gli hai distrutto l'aereo Come? No l'ho fatto io L'ho fatto io L'ho fatto io No Aia boia Dai che mi hanno ucciso O hanno distrutto l'aereo No no ti hanno ucciso L'aereo ha poca vita Devo andare dal medikit Dai ma ce lo rubano Adesso li ammazziamo No mi ha ucciso me Occhio L'aereo sta andando da solo Eh vecchio No no Cioè non riesco a cambiare Postazione Vai 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 Ok ci sono Melchia davanti a noi No l'hanno preso No Eh No Vecchio siamo noi contro di loro Siamo noi contro di loro Perché non va l'aereo Vai 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 Cambio Cambio Vai 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 Ok ho la safe Ok ho la safe Eh lo stavi mandando su Eh ho capito Vai eh Just blue Salì Gli ha distrutto l'aereo Medkit Un aereo nemico Un aereo nemico Medkit 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 davanti a noi A sinistra Ok lo vedo Lo vedo Non girare per favore Ho bisogno di mira Ok li vedo Li vedo Il medkit Il medkit ci salva la vita Non posso prendere Le chest verdi Quando ho già queste Vai eh È l'ultimo È l'ultimo Siamo Siamo davvero Uno contro uno Aria Royale Questo è Signori Questo è Vecchio Mamma mia Aria Royale Bellissima Bellissima Allora Trovate il link Di sto finocchietto In descrizione Planate Nel suo canale Ciao